Andiamo a vedere cosa mi sono portato e come ho equipaggiato la moto per un'avventura durata 10 giorni con trasferimenti di autostrada, lunghe percorrenze su stadali ricche di curve tra le montagne e passi sterrati a volte impegnativi. Praticamente tutti gli accessori che vedi in questo video li puoi trovare tutti in descrizione. Piccola premessa, in questo viaggio abbiamo incontrato pioggia, fango e neve ma letteralmente e quindi era importantissimo avere tutto l'equipaggiamento waterproof. Partiamo da sopra su un tacco RAM montato sul traversino originale della moto. Avevo uno smartphone dedicato soltanto per il GPS con mappe scaricate offline tra Osmond e Maps tutto affidato con dei cavi di ricarica di ottima qualità e suddivisi tra Anker e MagTame ancora non ho capito come si pronunciano e anche la presa 12V ovviamente di buona qualità. Un'inseparabile borraccia, sapete che io viaggio sempre con dell'acqua a disposizione in più ma scendiamo sui rollbar. Nei rollbar, questi qui laterali che vedete montati, avevo montato queste due borse della Lomo. Mi sono trovato bene per quanto riguarda la capienza, la robustezza e la tenuta waterproof ma ho voluto fissarle perché era l'unica cosa che non mi fidavo molto ulteriormente con queste straps della Fix Plus, questo marchio tedesco che mi ha dato l'occasione di provare queste cinghie fuori il solito contesto ciclistico. ciclistico, una ditta specializzata per viaggi in bikepacking per le bici ma abbiamo voluto testarle anche sulla moto e devo dire che ormai è parecchio tempo che le ho provate massima affidabilità, queste borse erano molto molto stabili non si sono mosse di un millimetro in quanto le cinghie originali delle borse che si fissavano con queste fibbie con le vibrazioni si allentavano nella prima borsa in questa qua a sinistra montata sul rollbar sinistro avevo tutto quello che riguarda camere d'aria, attrezzatura per riparare le gomme, attrezzi di vario genere andate a vedere nei vecchi video che cosa mi porto io durante i viaggi per capire tutto quello che serve per riparare eventuali danni alla moto nella borsa di destra avevo invece l'antipioggia sopra e sotto un lucchetto, casomai dovevo abbandonare la moto lontano e dovevo legare con un blocco a disco la moto e uno straccio in microfibra per asciugare eventualmente la visiera al momento pulire la visiera e via discorrendo parlando di lucchetti ho sempre con me quando viaggio un lucchetto da bicicletta per appoggiare in maniera volante il casco e la giacca qualora mi fosse servito allontanarmi e avere le mani libere non mi è mai servito però lo porto sempre con me il casco utilizzato è la GV Adventure ormai che tutti conoscete nei video ma ormai questo qui sta per andare in pensione alla sua usura è un casco che mi sono trovato veramente molto 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 bene e se siete interessati vi farò vedere che casco sto prendendo che ho scelto per le prossime avventure fissato sul muso una GoPro ed equipaggiato con un interfono l'M1S Pro scusate M1S Pro della Fadsport che ci ha gentilmente offerto la Fadsport per fare un test e una recensione che devo dire assolutamente positiva sia per quanto riguarda la durata della batteria per quanto riguarda l'audio veramente una qualità audio eccezionale sia per quanto riguarda la distanza di utilizzo so che è uscito il nuovo probabilmente proverò anche il nuovo e il difetto ma difetto non è la caratteristica di questo è un USB tradizionale per ricaricarlo mentre il nuovo ha finalmente un USB C quindi questo è il casco Pantalone Adventure che avrete già visto sicuramente per quanto riguarda tutti gli spostamenti adesso devo lavarli della Revit stessa giacca col suo antivento che per fortuna mi è servito della Revit ovviamente qua c'è un bel po' di disordine perché sono appena rientrato e sto facendo questo video un po' così un po' a caldo allora nelle tasche cosa portavo salviettine sportive per rinfrescarsi per lavarsi e casomai sai un po' di caldo polvere durante i trasferimenti offroad in tasca avevo sempre dei pantaloni il mio fedelissimo coltellino svizzero questo avrà circa 30 anni ce l'ho da sempre una torcia Maglite questa qua è stata utilissima perché rientravamo la sera ed era veramente molto buio era buio totale non c'era illuminazione e quindi dal cortile di questa casa che avevamo preso fino alla porta di casa era completamente buio poi rientravamo e mettevamo il grasso alle catene al buio utilizzavamo questa comodissima torcia insieme avevo anche nelle tasche dei pantaloni queste barrette pubblicità gratuita ma in realtà una vale l'altra io avevo trovato questa al supermercato quindi per me l'una vale l'altra sempre pronte come snack rapido ma passiamo alla borsa da serbatoio allora qui c'è un sacco bivacco di emergenza non ho mai usato non immaginavo neanche di usarlo ma sto testando un po' di cose per il prossimo viaggio adventure che invece sarà molto lungo probabilmente visto le nottate in free camping che faremo questo sacco di emergenza potrebbe servire per le notti un po' più fredde in tenda questa tasca qua era vuota mettevo al volo il biglietto dell'autostrada e qualcosa che magari mi serviva per non buttarlo lo usavo un po' come cestino della spazzatura qualche scontrino lo mettevo un po' qua dentro al volo rimanendo sempre all'esterno qua dentro ho del miele se non ricordo male degli elastici e del miele sì un po' di miele sempre pronto all'uso dall'altra parte invece avevo o anzi mi ricordo degli accendini sì io non fumo ma un paio di accendini mi riporto sempre mi sono serviti per sistemare delle cinghie che avevo tagliato ho dovuto sistemare un po' i fili per non farli strappare e bene niente niente altro insomma mi servono sostanzialmente per quello aprendolo avevo qua all'interno un po' avevo le istruzioni appunto dell'interfono perché essendo un interfono nuovo raggiungevo vanni per collegarlo casomai ci fosse stato qualche problema avevo comunque le istruzioni a portata di mano per non avere quelle online un'altra coperta termica messa qui per ogni emergenza e niente un po' di carta poi un kit da bagno carta igienica un un asciugamani intimo e basta una bandana di riserva all'interno della bandana di riserva mettevo dentro la mascherina che mi serviva per l'enduro per i percorsi off-road per i passi di montagna sterrati e per i corsi off-road quindi l'ho voluta riparare dentro la bandana di riserva poi ovviamente avevo dei cavalletti mini cavalletti uno e un altro da qualche parte questo qui era gorilla pod e con questo supporto in realtà per lo smartphone recuperato da un altro cavalletto corde con moschettoni per la biancheria quando la lavavo la stendevo con queste con queste corde vedi qui ci sono altri moschettoni anti zanzare zanzare tigre tafani zecche e insomma non l'abbiamo usato perché faceva freddo però ce l'ho pronto all'uso uno zaino micro zaino per eventuali spese o comunque trasferimenti di cose al volo che in effetti ho usato è stato molto utile uno zaino microscopico salviettine intime per qualche trasferimento che magari si mangia qualcosa di troppo un caffè fatto male può sempre servire abbiamo capito di cosa sto parlando gel lavamani un profumo economicissimo da tenere sempre pronto ovviamente questa torcia utilissima veramente molto utile con varie intensità c'è anche la luce rossa mi sono trovato molto bene l'ho utilizzata la sera mi è stata molto utile in questo kit avevo tutta l'igiene personale ho tutta l'igiene personale dallo spazzalino dentifricio lamette da barba la pietra ollare che l'ho utilizzata a posto del dopo barba pietra ollare no scusate come si chiama la pietra 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 che pietra è non mi sto ricordando come si chiama la pietra ollare è quella che uso sulla griglia per cucinare l'allume di rocca vabbè è la stanchezza ragazzi che sta parlando questo allume di rocca è veramente utile non solo lo utilizzavo come dopo barba ma dopo una giornata di corso sotto il sole sul piazzale il sole che mi prendeva in pieno avevo il collo rosso me la sono passata e subito sollievo veramente ottima questo allume di rocca basta sciacquarla inumidirla e fa il suo lavoro eccezionale e poi va bene spazzolino dentifricio un sapone in più schiuma da barba un pettine insomma tutto quello che serve per l'igiene intima andiamo avanti pinza multitool questa volta l'abbiamo usata per che cosa per che cosa mi ricordo che l'abbiamo usata ma non mi ricordo per cosa comunque queste pinze multitool come il coltellino svizzero una volta che ce le hai c'hai sempre un'occasione per utilizzarle ogni volta mi rendo conto che si utilizzano queste cose ok una fix plus di riserva in questo stuccio ho tutto il reparto elettronica per quanto riguarda carica batterie e tutti i cavi un power bank da 20.000 mAh ah mi sono dimenticato di farvi vedere invece il power bank da 10.000 che ho all'interno della tasca della giacca adesso lo vado a prendere delle caramelline che sono proprio simpatiche mi piace sono buone qua c'è l'altro cavalletto queste caramelline non hanno il solo aspetto gustoso ma sono delle piccole riserve di energia io arrivo un po' dalla mountain bike e quindi un po' di riserva di energia ma la porto sempre una cinghia di riserva colora la cinghia porta bagagli si fosse strappato o comunque avessi dovuto attaccare qualcos'altro c'era un'altra cinghia allora vi faccio vedere l'altro power bank da 10.000 questo è il power bank da 10.000 milliampere piccolo e comodo con il suo cavo doppio cavo usb c e questo qui che è un riduttore la utilizzavo principalmente per lo smartphone proprio quando dopo magari tante foto tanti video avevo proprio bisogno di una piccola riserva di energia piccolo e pratico da tenere in tasca non può mancare ovviamente il caricabatterie da muro alte prestazioni e con più prese per poter ricaricare interfono il power bank due smartphone visto che c'era anche il mio amico Vanni qualora ci fosse stata solo una presa disponibile avevamo a disposizione questo caricabatterie equipaggiato anche lui con questo cavo mag tame o mag tame all'interno del borsone principale dove avevo tutto lo corrente per il viaggio un borsone a cervix da 40 litri rigorosamente waterproof comunque all'interno conservavo tutti i vestiti in delle buste mi è successo in viaggi passati di trovare la borsa dopo tanti viaggi leggermente usurata e quindi da quel momento ho iniziato a utilizzare delle buste per inserire i vestiti non poteva mancare la sacca e questa lavatrice portatile scrubba non ci credevo sono riuscito ad utilizzarla più volte basta poca acqua e si lava tutto quello che c'è da lavare una vera e propria lavatrice portatile ormai le mie inseparabili on running leggerissime si infilano dappertutto e qui appunto i sacchetti nei quali avevo dentro tutta la biancheria che devo dire tra l'altro sia suddivisi per bene è facile anche da tirar fuori abbiamo il sacchetto della bianchiera intima il sacchetto delle magliette il sacchetto dei pantaloni e via discorrendo ovviamente al mio ritorno sapendo di ritornare a casa ho un po' buttato le cose da lavare dentro un po' a caso anche se avessimo preso acqua comunque questa borsa è nuova a mantenere waterproof infatti abbiamo trovato un bel po' di pioggia al nostro ritorno avrete notato questo audio odioso fuori campo fuori sincro fuori tutto perché la stanchezza mi ha giocato lo scherzo e non mi ha fatto accorgere di avere il microfono che state vedendo attaccato completamente scarico con me ho sempre gli attrezzi necessari per riparare le forature non mi stancherò mai di dirlo i tubeless sono eccezionali ma esclusivamente magari per un viaggio stradale se si va a fare un viaggio adventure ragazzi imparate a sostituirvi la camera d'aria in mezz'ora risolvete il problema e continuate a divertirvi ok interrompo con questa orrenda voce fuori campo e fuori sincro qua sto facendo altro che far vedere il lucchetto che utilizzo è un vecchio lucchetto della luma che è veramente eccezionale un po' pesante ma molto robusto lo straccio che oltre la classica funzione da straccio lo utilizzo come tappetino per le manutenzioni giallo fluo lo appoggio per terra e metto tutta la minuteria qua dentro abbiamo l'antipioggia che dicevo prima e in più ho aggiunto in quella carta bianca un tubetto di gel lubrificante che mi serve quando vado a rimontare il copertone all'interno del cerchio che mi fa scivolare in maniera rapida senza fare troppa fatica all'interno del cerchio proprio perché quando siamo in giro ecco qua lo faccio vedere bene io utilizzo questi qui che sono delle mousse le bibbe mousse della michelin ma va benissimo proprio per far scivolare il tallone del copertone all'interno del cerchio quindi dopo aver fatto questo pasticcio con il microfono vi ringrazio nuovamente per essere arrivati fino a qui spero che questo video vi abbia dato uno spunto su cosa portare durante il viaggio visto che mi è stato chiesto specificatamente più volte durante sotto qualche commento quindi ragazzi spero vi sia piaciuto il video grazie e gas brillante ci vediamo sicuramente nei corsi e nei nostri viaggi adventure che tra l'altro vi spoiler ne stiamo preparando uno sui Balcani andremo a fare un sopralluogo stupendo a giugno finiti i corsi Lombardia e Piemonte partiremo per questo sopralluogo e ovviamente mi seguite su Instagram vedrete delle storie strada facendo e poi ci sarà occasione di farlo insieme ci saranno due versioni spero di portare il più presto possibile una versione 100% stradale sull'asfalto e una versione adventure con del fuoristrada divertente e impegnativo al punto giusto grazie ancora e gas brillante grazie a tutti grazie a tutti